Cari amici, salve a tutti e pace su tutte le frontiere. Questo video è un invito per voi, vi aspetto a Empoli sabato 24 settembre dove presenterò il mio ultimo libro, Esperienze extraterrestri e risponderò anche alle vostre domande, alle domande del pubblico. Sarà un'occasione molto bella per poterci incontrare di persona, parlare vis-à-vis e per poter approfondire la conoscenza dei nostri fratelli maggiori, i fratelli dello spazio. Quindi venite a Empoli il giorno 24 settembre alle ore 17 e 30 presso la sala teatro Il Momento, così si chiama, in via del Giglio che è tutta una promessa, perché il Giglio è un fiore simbolico importantissimo. Quindi non perdetevi il momento presso la sala teatro Il Momento per parlare dei fratelli dello spazio. Vi mando un caro abbraccio, un bacione e ci vediamo presto a Empoli sabato 24 settembre ore 17 e 30. Non mancate! Grazie! 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 Grazie!